Conoscendolo sin da ragazzo e poi conoscendo il lavoro che fa e la qualità del suo lavoro, cambiando le esigenze del turismo come sono cambiate negli ultimi anni e l'importanza strategica di internet nel turismo oggi, abbiamo deciso di collaborare con lui sapendo che in zona era il suo ufficio uno dei migliori in assoluto. Il loro appoggio fa sì che le ragazze che si occupano di marketing in hotel abbiano un aiuto forte che gli permette appunto di ottimizzare il loro tempo.